Eccoci di nuovo insieme negli studi di Una Mela al Giorno pronti per continuare questa nostra serata. Poco fa abbiamo parlato degli effetti benefici della pandemia, abbiamo visto come durante il lockdown si è stato anche scritto un libro a quattro mani, un meraviglioso libro di cui vi abbiamo raccontato. Purtroppo però lockdown, isolamento, distanziamento sociale hanno portato anche effetti nefasti, i cosiddetti effetti collaterali della pandemia da Covid-19 ad essere colpiti non soltanto gli adulti ma anche i più giovani, anche i piccolissimi che sono stati vittime di ansia, stress ma sono aumentati anche gli atti di autolesionismo, i tentativi di suicido e molto molto altro. Allora per approfondire questi argomenti che vi vado a presentare la nostra prossima ospite di questa sera la dottoressa Maria Pontillo, psicologa e psicoterapeuta dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Benvenuta. Buonasera Isabella, buonasera telespettatori. Allora abbiamo parlato di alcuni sintomi e atti che sono aumentati tra i bambini e anche gli adolescenti. Mi sono riferita all'ansia, allo stress ma ho citato anche qualcosa che va un po' oltre, quindi atti di autolesionismo e anche tentativi di suicidio. Che cosa è accaduto in questi due anni ai nostri giovani? In questi due anni i nostri giovani hanno sofferto, parliamo di giovani, parliamo di adolescenti, parliamo di bambini. Hanno sofferto molto le restrizioni imposte dalla pandemia, restrizioni alla loro vita sociale, alla loro vita scolastica, restrizioni rispetto ai loro progetti di vita. Tutto questo si è tradotto in una condizione di malessere psicologico che ovviamente si è manifestata differentemente a seconda della fascia d'età. Per quanto riguarda gli adolescenti, lei citava l'autolesionismo. Ebbene sì, abbiamo avuto un aumento significativo dei casi di autolesionismo ma anche di ideazione suicidaria e tentativi di suicidio. Tra i bambini abbiamo visto preparare l'ansia, la paura, le difficoltà alimentari, la tendenza a somatizzare, ad avere dei sintomi fisici, mal di testa, mal di pancia e quindi a canalizzare le emozioni negative sul corpo. Ancora sui bambini abbiamo visto anche una regressione delle autonomie. Bambini che prima dormivano da soli, bambini che prima mangiavano da soli che hanno visto perdere queste autonomie, insomma. Quindi possiamo definire uno stravolgimento quello che è accaduto ma soprattutto la pandemia e le restrizioni come un pericolo per la salute mentale dei nostri ragazzi. Andando con ordine, perché lei ha denominato un po' un quadro generale, ha parlato dei più piccoli, ci sono dei sintomi tipo ansia, stress che si sono manifestati appunto nei bambini e poi ha parlato di veri e propri atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. Partendo proprio da questi ultimi, cioè in concreto sono arrivati al vostro pronto soccorso dei giovani, degli adolescenti che cosa avevano fatto a se stessi? Sono arrivati sicuramente adolescenti e anche preadolescenti che avevano compiuto degli atti di autolesionismo. Che cosa significa autolesionismo? L'autolesionismo è un attacco al corpo che l'adolescente pratica. Si provoca dei tagli, si provoca delle bruciature, compie degli atti autoaggressivi. Per esempio ci sono adolescenti che battono ripetutamente la testa contro le pareti al solo scopo di farsi male o evitano di medicarsi delle ferite al fine di sanguinare, al fine insomma di provocare dei danni al proprio corpo. L'autolesionismo è intenzionale. L'adolescente lo fa perché lo vuole fare e lo fa essenzialmente perché ha una difficoltà a gestire le proprie emozioni negative. La depressione, la tristezza, l'ansia. Sono ragazzi che hanno risolto un'età compresa tra i 12 e i 18 anni. Ma con la pandemia abbiamo assistito anche ad un abbassamento dell'età a cui si manifesta l'autolesionismo. Abbiamo visto anche ragazzi di età compresa tra i 10, gli 11 e i 12 anni. Quali sono i dati? Partiamo forse da dati anche concreti. Basti pensare che rispetto a quello che il numero di richieste totali giunte al nostro osservatorio, in particolar modo al nostro pronto soccorso, per quanto riguarda l'anno 2021, nel 65% dei casi i ragazzi avevano praticato autolesionismo. Nel quasi 40% dei casi vi era tentativo di suicidio, quindi l'effettivo tentativo di darsi la morte attraverso la defenestrazione, attraverso altri metodi, ma anche l'ideazione suicidaria, ovvero il pensare alla morte come l'unica soluzione. Dati questi in aumento rispetto al periodo prepandemico. Infatti proprio questo le volevo chiedere perché magari se ne diamo delle cifre però non ci rapportiamo a quello che accadeva prima che scoppiasse la pandemia, non riusciamo nemmeno veramente a capire che danni abbia realmente provocato tutto questo isolamento, queste restrizioni. Proviamo infatti a stimare la portata del fenomeno. 65% di casi di autolesionismo rispetto al 29% del 2019, quindi un aumento di, diciamo, notevole entità. Così come il 35% di ideazione suicidaria e tentativo di suicidio rispetto al 18% della fase prepandemica. Quindi abbiamo visto raddoppiarsi i casi di ideazione suicidaria, i casi di tentativo di suicidio, e abbiamo visto addirittura un aumento praticamente del 30% e più per quanto riguarda i casi di autolesionismo. Questo però ci c'è una cosa molto importante che lei mi ha suggerito. L'autolesionismo, l'ideazione suicidaria, il tentativo di suicidio sono aumentati, ma esistevano anche prima. Quindi forse dovremmo ragionare sul fatto che il problema di salute mentale tra i nostri ragazzi esiste da sempre e che il Covid abbia avuto un po' quello che è l'effetto di detonatore. La stessa Unicef nel report del 2021 ci dice attenzione, il Covid è la punta dell'iceberg rispetto ad un problema di salute mentale che esiste da tempo. Probabilmente il Covid ha dato modo ai nostri giovani ma a tutti noi di fermarci e riflettere e quindi si sa che quando si vive in una situazione di stasi tutto poi emerge e si può creare un accumulo e appunto come diceva lei, effetto di detonatore quindi poi si esplode ad un certo punto. Immagino che in questi due anni tutti i casi che vi sono capitati di trattare lì nel vostro ospedale abbiano portato anche a farvi un'idea seppur ovviamente parziale rispetto a uno scenario nazionale o anche internazionale delle cause, dei disagi che ci sono sotto. Cioè perché un bambino, perché quando diciamo dieci anni parliamo di un bambino o un ragazzino sia un po' più grande, adolescente arriva a decidere di procurarsi un taglio di procurarsi una bruciatura o addirittura poi a compiere un gesto estremo perché come diceva lei di porre fino alla propria vita sembra essere l'unica soluzione ma mi chiedo, soluzione a che cosa? Soluzione all'estrema sofferenza psicologica perché chi pratica autolesionismo chi pensa al suicidio chi tenta il suicidio, è qualcuno che soffre infatti dobbiamo cominciare a pensare che queste tre dimensioni di cui stiamo parlando siano essenzialmente degli epifenomeni delle conseguenze di disturbi psichiatrici sottostanti non esiste autolesionismo non esiste tentativo di suicidio o di azione suicidaria senza un disturbo dell'umore di fondo quindi cominciamo a parlare anche del fatto che dietro c'è un male oscuro che troppo spesso viene e ne viene sottovalutata la presenza tra i bambini e gli adolescenti che si chiama depressione quindi cominciamo col dire questo non tutti gli adolescenti in seguito alla pandemia o durante la pandemia hanno avuto queste manifestazioni le hanno avute quei ragazzi che avevano già una fragilità psicologica che soffrivano già molto probabilmente o erano predisposti ad un disturbo psicologico sicuramente possiamo individuare come ha fatto lei alcuni fattori che hanno in un certo senso precipitato il livello di sofferenza psicologica la prima, l'interruzione nei racconti dei nostri ragazzi che abbiamo visto questa parola ricorreva spesso l'interruzione della routine quotidiana l'interruzione della propria attività scolastica l'interruzione della propria organizzazione di vita la scuola, lo sport, gli amici, il sabato sera e soprattutto l'interruzione dei progetti chi doveva andare a fare l'anno di studio all'estero chi aveva la competizione sportiva per cui si era allenato da sempre quindi questi ragazzi si sono sentiti interrotti sospesi e loro paura era quella che da questa situazione sarebbe stato difficile uscire era questo che ci raccontavano anche perché elemento fondamentale per l'instaurarsi di questa condizione di sofferenza psicologica è stata l'esposizione protratta ad una condizione di stress durante il primo lockdown i nostri ragazzi hanno mobilitato le risorse sono riusciti a seguire per quanto riguarda la didattica a distanza ad impegnarsi e il protrarsi di quella condizione di quell'esposizione ad una condizione di paura che ha ovviamente minato le loro risorse in primis però possiamo dire questo ce lo dice anche la ricerca scientifica che correlata all'autolisionismo sia stata la chiusura relazionale un po' quel senso di solitudine di cui parlava lei i nostri ragazzi chiusi nelle loro stanze con i social come unica finestra insomma sul mondo e come unica finestra di contatto si sono persi tutta una serie di confronti con i pari di condivisione di occasioni di socializzazione che in quella fascia d'età sono fondamentali perché in quella fascia d'età l'adolescente si separa dalla famiglia e trova, si identifica nel gruppo dei pari costruisce la propria autostima e come dire la propria vita sociale proprio attraverso il contatto con il gruppo dei pari quindi un fenomeno un effetto pandemia nell'ambito di una fase di vita molto peculiare certo perché ovviamente per un adulto interrompere momentaneamente la propria routine può essere anche un modo per riposarsi o per fare qualcosa di diverso ovviamente per gli adolescenti e per i bambini è completamente diverso lei diceva giustamente il protrarsi dell'isolamento e il ripetersi dei lockdown che ha aggravato la situazione al punto tale mi corregga se sbaglio che ci sono dei ragazzi che addirittura non sono più riusciti a tornare alla vita di prima cioè anche nel momento in cui tutti i liberi si poteva uscire si poteva tornare a frequentare la scuola in presenza a praticare lo sport questa categoria di bambini ed adolescenti non è riuscita è rimasta isolata in casa e su questo argomento lei ha anche scritto un libro con il professor Vicari dove si parla dell'auto isolamento che attenzione non coinvolge soltanto i cosiddetti chicomori che rappresentano poi un'altra fascia e magari facciamo anche accenno che cosa sono questi chicomori perché ovviamente non tutte le persone che ci stanno in questo momento guardando da casa possono veramente sapere di cosa stiamo parlando quindi ecco come si è evidenziato questo fenomeno del non riuscire più a mettere i piedi fuori casa perché parliamo di questo cioè restano in camera non escono più non vogliono più avere rapporti sociali assolutamente questo è un messaggio importante nel senso che si è pensato che con la riapertura avremmo avuto la guarigione dei nostri ragazzi che la sofferenza psicologica diciamo sarebbe stata un pochino diciamo assolutamente arginata in realtà non è così nel senso che abbiamo alcuni dati che sono fondamentali si dice poco che la maggior parte degli adolescenti ha sperimentato l'abbandono scolastico guardando un pochino i dati diffusi anche dal MIUR si fa riferimento per esempio ad un 10% quasi il 13% della fase pandemica contro un 24% della fase post pandemica questo ci dice che i nostri ragazzi nel momento in cui vi era la possibilità di ripartire di riprendere la propria vita non tutti ce l'hanno fatta molti ragazzi hanno cominciato ad avere paura di uscire di casa paura del confronto con l'altro paura del contagio paura di come dire doversi risottoporre a quelle che venivano vissute come delle pressioni quotidiane ecco ancora una volta si tratta sicuramente di ragazzi che avevano già una predisposizione vivevano già con difficoltà la vita pre-pandemica nel momento in cui si sono ritrovati con diciamo il lockdown è come se avessero creato all'interno della propria abitazione una sorta di comfort zone da cui è difficile uscire quindi possiamo dire anche riallacciandoci a quanto dicevamo precedentemente abbiamo avuto due reazioni principali dei nostri ragazzi a quelle che sono le restrizioni imposte dalla pandemia da una parte l'aggressività aggressività rivolta verso il proprio corpo rivolta verso se stessi il capitolo dell'autolesionismo dell'ideazione suicidare del tentativo di suicidio dall'altro un altro capitolo il darsi l'isolamento il darsi il ritiro ragazzi che non uscivano dalla camera neanche per condividere il passo con i propri genitori ragazzi che si rifiutano totalmente di riprendere la scuola ecco questo ci ha spinto a scrivere questo libro adolescenti che non escono di casa non so di chi comori per dare voce a chi molto probabilmente non arriva neanche in pronto soccorso da noi perché vive recluso sono gli invisibili quelli che non hanno degli agiti aggressivi per cui vengono portati dai genitori in pronto soccorso ma soffrono in silenzio e deliberatamente scelgo di non avere più contatti sociali insomma però i genitori ovviamente ci si rendono conto perché se mio figlio è ancora piccolo però se un giorno dovesse ad adolescente non uscire improvvisamente più di casa oppure dopo una situazione di lockdown non riuscire a riprendere quella che era la vita per il lockdown mi vorrei una domanda cioè quindi non arrivano da voi perché nemmeno il genitore se ne rende conto perché si sottovaluta questo aspetto e si pensa che sia una fase che è qualcosa che passerà da sola molto spesso si pensa proprio questo che sia una fase che sia la crisi adolescenziale che sia un periodo insomma molto spesso però fortunatamente i genitori trascorso un certo periodo di tempo cominciano a chiedere aiuto infatti questi ragazzi vengono come dire portati da noi dai loro genitori o addirittura su segnalazione delle insegnanti sono le insegnanti che fanno riferimento a come la frequenza scolastica stia diventando discontinua e come questi ragazzi anche all'interno del contesto scolastico si isolino sempre di più ricordiamoci che il primo campanello di allarme e questo lo citiamo spesso nel nostro libro per un ritiro sociale grave è proprio il fatto che il ragazzino cominci a rifiutare la presenza scolastica cominci a rinunciare alle attività sportive il ragazzo non si ritira socialmente da un giorno all'altro ma diminuisce progressivamente le occasioni di esposizione sociale con la pandemia questo è un fenomeno in aumento basti pensare che noi avevamo un 17% sulle richieste totali nel 2019 che è aumentato al 35% per quanto riguarda le richieste attuali insomma è il doppio più del doppio e lei diceva una cosa molto importante distinguiamoli dagli kikomori o comunque precisiamo facciamo chiarezza sul concetto di kikomori allora molto spesso quando si parla di kikomori si dice che sia come dire un ritiro su base volontaria il ragazzo sceglie in maniera volontaria di ritirarsi di come dire non avere dei contatti sociali ebbene noi su questo vogliamo dire una cosa importante il termine kikomori è stato ormai come dire assolutamente accettato all'interno insomma della nostra società pur di provenienza insomma dal punto di vista diciamo culturale dalla società giapponese ma non pensiamo che il ritiro sociale che caratterizza chi viene definito kikomori sia su base volontaria il messaggio fondamentale è questo nessuno si ritira volontariamente stando bene il ritiro sociale è la punta dell'iceberg molto spesso dietro il ritiro sociale abbiamo disturbi d'ansia e disturbo d'ansia sociale questa paura del confronto con l'altro che ha caratterizzato i nostri ragazzi nella fase post-pandemica ma ci sono anche delle depressioni dietro il ritiro sociale ci sono delle forme di autismo dietro il ritiro sociale quindi forse quello che vogliamo dire è cerchiamo di non usare semplicemente le etichette sociali arrivano dei genitori che ci dicono mio figlio kikomori punto no suo figlio vive una condizione di sofferenza psicologica che va indagata quindi questo libro è un pochino il modo di dire attenzione quello che viene forse ormai accettato come se fosse diciamo parte della nostra società in realtà nasconde una sofferenza psicologica che tra l'altro ce lo dice la ricerca scientifica ce lo dice insomma quanto facciamo quotidianamente si può assolutamente curare si può assolutamente trattare perché questo è il messaggio fondamentale insomma che noi come ospedale vogliamo dare la salute mentale può essere protetta nei nostri ragazzi e le forme di disturbo psichiatrico esistenti da sempre e accentuatesi con la fase pandemica possono essere assolutamente insomma trattate è un messaggio genitori genitori che hanno paura molto spesso di entrare in contatto con noi figure operatori della salute mentale fa sempre un po' paura perché è qualcosa che non si può vedere quando magari uno ha una patologia allora può fare non so un esame un'ecografia una radiografia allora si associa una patologia a qualcosa di divisibile la salute mentale fa paura perché è intangibile perché possiamo soltanto sperimentare attraverso quello che viviamo magari nella relazione a volte però questi segni questi campanelli di allarme si preferisce anche non vederli oppure di vabbè domani andrà meglio domani andrà meglio però procrastinare non fa altro che peggiorare la situazione assolutamente sì la salute mentale i problemi di salute mentale riguardano l'emotività riguardano la sfera emotiva riguardano quelli che sono gli stati mentali e molto spesso si preferisce non vedere anche perché nei genitori scatta quello che è un meccanismo di colpevolizzazione cosa sbagliato non sono stato un buon genitore allora noi vogliamo dire a questi genitori che non è così non è colpa dei genitori i problemi di salute mentale sono il risultato di una interazione sicuramente tra fattori di rischio di tipo genetico e fattori di rischio ambientale degli stress quotidiani che possono essere vissuti anche al di fuori dal contesto familiare quindi ai genitori chiediamo cogliete i segni i segni precoci perché quello che dobbiamo evitare è la cronicizzazione le do diciamo questo dato basti pensare che più della metà dei disturbi psichiatrici degli adulti sono esorditi in età adolescenziale e non sono stati attenzionati perché poi quando si cronicizza che succede? quando si cronicizza è più difficile affrontarli è più difficile curarli ma soprattutto cronicizzazione significa una lunga vita caratterizzata da una condizione di sofferenza psicologica insomma quindi attenzione dobbiamo cercare di intervenire precocemente per far sì che i nostri ragazzi abbiano una vita adulta con una buona qualità di vita e soprattutto in una condizione di serenità insomma quindi bisogna secondo me innanzitutto sensibilizzare soprattutto noi genitori perché poi ovviamente specialmente quando parliamo di bambini di ragazzini è difficile che la richiesta d'aiuto possa partire da loro perché non solo soffrono in quel momento sono anche in una situazione di disagio evidente ma non sanno nemmeno magari di avere effettivamente un problema o possono vergognarsene perché possono entrare questo aspetto assolutamente sì lei ha citato due dimensioni importanti la consapevolezza molto spesso i ragazzi soprattutto quelli più piccoli non hanno ancora uno sviluppo cerebrale tale da poter avere quelle abilità di conoscenza di sé di introspezione che possono far capire loro di essere in difficoltà l'altra dimensione è la vergogna ricordiamoci che così come esiste lo stigma la paura del disturbo psichiatrico nei genitori esiste anche nei ragazzi sono tantissimi ragazzi che si siedono davanti a noi e ci chiedono dottoressa sono pazzo dottoressa adesso mi considererete pazzo quindi ancora la paura dell'essere pazzo la paura insomma della malattia mentale tutti questi sono dei freni sono degli ostacoli che fanno sì che il ragazzo nasconda il proprio disagio il più possibile ecco che quello che diceva lei è fondamentale psicoeducare educare i genitori all'individuazione precoce di quei segni che possono sicuramente insomma far pensare ad un disturbo ma soprattutto quello che diciamo ai genitori e questo mi sento dirlo anche alle insegnanti il cui ruolo è fondamentale accompagniamo questi ragazzi alla richiesta d'aiuto molto spesso non sono pronti subito per farlo una richiesta d'aiuto allora molti insegnanti mi raccontano anche di leggere tra le righe dei temi la confessione sull'autolesionismo o la confessione sul disturbo alimentare e allora le figure di riferimento adulte genitori insegnanti accogliamo quei segnali che i ragazzi ci vogliono mandare e cerchiamo di accompagnare l'idea che consultare uno specialista non è un qualcosa che determinerà la tendenza ad avere un'etichetta ma segnerà invece l'inizio di un periodo migliore dottoressa poi se mi permette io aggiungerei un'altra cosa che mi veniva in mente mentre lei parlava lo stigma sì è vero sono consapevole e sono convinta che esiste e che sia anche troppo forte però dall'altro c'è anche una sottovalutazione non sottovalutare il disagio o la patologia che riguarda la mente mi è capitato di sentire con le mie seste orecchie reagisci questa cosa è solo nella tua testa quindi ce la puoi fare guarisci da solo in un certo senso cambia il tuo modo di vedere ma non è così non è che se io soffro di depressione o di qualsiasi altro disturbo posso da sola una mattina svegliarmi e dicere ok guarisco reagisco con la mia mente la ringrazio assolutamente per questo messaggio anche perché troppo spesso sento e carattere crescerà quest'ansia andrà via con l'età se i genitori fossero stati più severi lui non sarebbe così quindi troppo spesso sento quella che possiamo definire mi perdoni una banalizzazione dei problemi di salute mentale ricordiamoci però che depressione disturbi d'ansia psicosi sono dei disturbi psichiatrici sono delle malattie così come una malattia di diabete così come una malattia potrebbe essere un'altra forma infettiva per esempio ma sono delle malattie che vanno assolutamente curate e trattate da specialisti soprattutto con percorsi di psicoterapia e se laddove è necessario anche con i farmaci adeguati anche di questo non bisogna secondo me avere assolutamente timore paura perché questo anche nei confronti dell'utilizzo dello psicofarmaco qua c'è un'altra parentesi che potremmo aprire di stigma nei confronti del farmaco perché appunto come diceva lei allora solo pazzo si è pazzi si ha una malattia si ha una patologia come può essere a livello gastrico a livello intestinale o a livello di qualsiasi altra parte del corpo e come tale va curata e per essere curata bisogna chiedere aiuto agli specialisti agli specialisti affidarsi a cure che abbiano un'evidenza scientifica e l'approccio integrato è sicuramente quello maggiormente riconosciuto come efficace approccio integrato significa avvio di un percorso di psicoterapia psicoterapia che molto spesso non coinvolge solo il bambino l'adolescente ma coinvolge anche la famiglia coinvolge chi vive insomma insieme al ragazzo con il disagio nei casi più difficili nei casi più gravi sicuramente viene effettuata una valutazione rispetto all'inserimento di uno psicofarmaco tranquillizziamo i genitori non è una scelta a cuore leggero o non è una scelta facile l'inserimento di un farmaco è sempre il risultato di una valutazione che viene fatta dallo specialista neuropsichiatra tenendo in considerazione quello che è lo stato di salute fisica globale del ragazzino molto spesso non sono diciamo assunzioni che devono essere fatte a vita ma sono assunzioni che servono per un determinato periodo di tempo e poi sarà l'equip a decidere a concordare con la famiglia quella che è la diminuzione graduale delle terapie quindi questo è molto importante secondo me dirlo avere un problema di salute mentale in adolescenza in età evolutiva non significa averlo a vita anzi se interveniamo efficacemente cercando di liberarci da molti schemi che possono invece semplicemente accentuare il disagio riusciamo ad essere efficaci tempestivi e soprattutto risolutivi certo certo assolutamente allora dottoressa io la ringrazio davvero per il suo contributo questa sera e spero che attraverso le sue parole chi in questo momento ci sta guardando da casa e magari vive un'esperienza di questo tipo accanto a sé delle persone che la vivono possa aver ricevuto un messaggio importante che è quello di chiedere aiuto senza vergognarsi e senza avere paura perché si può trovare la soluzione anzi prima si agisce meglio si troverà la strada giusta da percorrere per ognuno di noi grazie a lei grazie a tutti i telespettatori buonasera una mela al giorno ovviamente non finisce qui quindi rimanete con noi perché torniamo tra poco